Sono iniziati questa mattina, in leggero anticipo rispetto all'ora prevista, i primi rinvii dei migranti dalla Grecia verso la Turchia. In tutto tre navi turchi hanno lasciato i porti delle isole greche di Kios e Lesbos. Gli imbarchi sono cominciati intorno alle quattro. Dalle Lesbos sono partite circa 131 persone, in maggioranza provenienti da Pakistan e Bangladesh, secondo un portavoce di Frontex, l'Agenzia Europea di Sorveglianza delle Frontiere. Le operazioni di rinvio dei migranti entrati in Grecia legalmente dal 20 marzo sono state decise nel quadro del piano siglato con l'Unione Europea il 18 marzo scorso. Secondo i calcoli di alcune fonti di stampa riguarderanno circa 6.000 persone.